L'arte torna protagonista a Fano con una settimana di esposizione. Samuele, è una iniziativa nata da un gruppo Facebook pochi anni fa. Esatto, in pieno lockdown ci è venuta l'idea di questo gruppo dove diamo spazio a tutti gli artisti fanesi con le loro opere oppure collezionisti di quadri sempre di artisti fanesi dove sui social espongono e danno vita a una forma di arte. Dopo la realizzazione del gruppo di Facebook abbiamo voluto concretizzare questa cosa con delle edizioni su strada. Siamo ormai arrivati alla terza edizione di Arte Mista e quindi quest'anno abbiamo voluto accentrare la nostra mostra su una figura in particolare. Oltretutto diamo spazio durante sabato 11 maggio agli artisti dalle 15 alle 18 che si esibiranno in plein air. Qual è la settimana di riferimento e dove si svolgerà l'iniziativa? La settimana di riferimento dell'evento si svolge dall'11 maggio al 19 maggio nella piazza Cleofilo presso la chiesa di Santa Maria del Suffragio. Samuele ha accennato anche di un protagonista, chi sarà? Il protagonista sarà Tom Storer che ci porterà a fare un viaggio all'interno delle mura romane perché nelle sue 827 opere che ha realizzato nell'arco della sua vita penso che all'incirca 6-700 le abbia fatte all'interno delle mura romane. Quindi c'è un doppio elemento che ci collega a Tom Storer, cioè l'amore per la pittura e l'amore per la città di Fano. La mostra è realizzata in collaborazione con la venerabile confraternita del suffragio e con lo studio del bianco. Tra l'altro tutte le opere saranno esposte all'interno della chiesa del suffragio. Non mancheranno delle sorprese? No, ci saranno anche tantissime sorprese perché oltre alle 70 opere Olio su tela che abbiamo di Tom Storer, ci saranno proprio degli elementi che rappresentano proprio la sua vita, quello che ha fatto lui in vita. Vi aspettiamo all'interno della chiesa di Santa Maria del suffragio, venite numerosi e dall'11 al 19 di maggio non perdete questo bellissimo evento.